L'intelligenza artificiale aumenta senz'altro l'efficienza dei servizi, crea alcuni problemi di vulnerabilità. L'Autorità Nazionale per la Cybersicurezza in che modo sta affrontando queste nuove sfide? Allora, la prima cosa è studiare. Noi è un po' che stiamo studiando e non siamo soli. Ci confrontiamo con l'Accademia, con i nostri omologhi a livello nazionale e internazionale e uno sforzo multidisciplinare. Il risultato fino adesso è che nessuno sa realmente come regolare l'intelligenza artificiale. Però non siamo completamente privi di strumenti. In questo momento abbiamo quelli che consideriamo strumenti tradizionali perché alla fine l'intelligenza artificiale lavora in un ecosistema digitale. Quindi si comincia creando un ecosistema digitale sicuro con gli strumenti che abbiamo già. una regolamentazione, ad esempio, delle reti, dei servizi cloud, dei data center ad alta capacità che sono alla base dei nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Dopodiché si inietta nel sistema una robusta dose di responsabilità e, in qualche modo, coscienza dei limiti. Cioè si comincia con anche un uso corretto e responsabile delle applicazioni di intelligenza artificiale. Sintesi finale, nessuno lo può fare da solo. Cioè è uno sforzo collettivo e multidisciplinare che riguarda tutti gli strati, cominciando proprio dagli utenti che devono capire cosa si può e cosa non si può chiedere a un sistema di intelligenza artificiale, arrivando fino a chi all'origine costruisce questi sistemi, questi algoritmi, queste capacità nuove, che deve avere coscienza di fin dove si può spingere alla ricerca di nuove soluzioni. Grazie a tutti.